Zelischi, Zelischi se ne va un avversario poi prova a scuotere i suoi con questa avanzata in diagonale poi pesca Mario Rui, Mario Rui raso terra per Puccerelli, Puccerelli per Saponara, Saponara Baccarone posizione regolare, Baccarone! E l'Empoli passa in vantaggio con Massimo Baccarone esattamente al quinto minuto di gioco questa fiammata di Zelischi che ha preso pala dalla prima metà campo ha attraversato il campo e ha scosso i compagni con questa manovra, ha ceduto per Mario Rui Mario Rui a Saponara, il movimento di Puccerelli e di Maccarone, Saponara ha ceduto il palone a Maccarone sul filo del fuorigioco, ha scatenato tutta la potenza di destro, trafiggendo il portiere Gollini che nulla poteva su questa bomba di Maccarone, dieci secondi prima avevo detto Nico Zelischi aveva suonato la carica con quella pedalata, palla al piede per 40 metri e su quell'azione nata dal piede destro del polacco di Piotr Zelischi è arrivato il gol di Maccarone